Ciao ragazze, oggi video sui prodotti finiti dell'ultimo periodo inizio con i prodotti che ho utilizzato con la zona make up e vi faccio vedere le salviettine struccanti che ho terminato in questo periodo e sono le mie solite, queste qui della laurella che questa volta ho trovato dal cinese a 80 centesimi queste qui della cotonet che già sicuramente avete visto e queste qui della fria che stavano in offerta ad acqua e sapone a 99 centesimi o 75 centesimi ne ho approfittate e ho preso due confezioni di queste qua già sapete cosa ne penso di queste qui della cotonet e della laurella perché sono le salviettine che utilizzo spesso queste qui della fria ve le stra consiglio soprattutto se le trovate in offerta perché sono molto buone l'unica cosa che magari sono se avete insomma un trucco un po' più pesante da struccare tendono un pochettino a bruciare se andate a sfregare un po' però per il resto sono buone e all'interno troviamo 25 salviettine le altre due che vi ho fatto vedere contengono solo 20 salviettine poi per quanto riguarda i prodotti make up posi ho terminato questo mineral primer della young blood che era un campioncino da 5 ml di prodotto ma davvero mi è durato un sacco perché ne basta pochissimo di questo primer per il viso ed è molto molto buono ho avuto modo di provare questa marca tramite il Cosmoprof e ve lo stra consiglio davvero mi ci sono trovata bene non comprare il full size perché semplicemente questo campioncino qua vi dura tantissimo ed è peccato perché comunque è un prodotto che poi non andreste a consumare perché il full size contiene davvero tanto prodotto più di 50 ml di prodotto se non erro e più per un uso diciamo professionale poi ho terminato finalmente questo fondotinta della essence il poor skin ed è il misturing make up lo 02 sand ha un odore ve l'ho detto un po' bruttino finalmente l'ho finito ho spremuto fino alla fine non è uscito più nulla anzi è uscito tutto schizzetto e mi ha rovinato tutto il mobile e quindi ho deciso di cestinarlo perché comunque ce n'è davvero pochissimo all'interno e niente senza infamia senza lode niente di che questo fondotinta non è pessimo ma non è neanche eccellente l'unica cosa che ha bruttissimo è l'odore perché ha tipo di medicinale quindi sconsigliato ma tra l'altro mi pare che questo qua essence non lo fa nemmeno più poi ho terminato la crema viso della Xea che mi ero promessa insomma di di terminare ed è buonissima questa crema qui previene anche brufoli senza parabene senza coloranti mi ci sono trovata benissimo e questa qui era una confezione da 50 ml di prodotto che mi è durata davvero tanto poi ho terminato vado a casaccio perché sta tutto dentro alla mia solita vaschettina di Sephora ho terminato questo bagno schiuma della Neutromed del nuovo ed è il cream e oil burro di cacao e olio di cocco questo bagno schiuma ragazze ha un odore buonissimo super super dolce e lascia la pelle davvero morbida ma la cosa che mi piace di più oltre al fatto che rende la pelle bella morbida è l'odore che vi persiste addosso davvero fantastico se non sbaglio costa un euro è davvero buono è una nuova profumazione ed è da 250 ml di prodotto e ho terminato questo per quanto riguarda lo shampoo ho terminato questo qui della Hermed che mi avevano mandato per prova ed è il P2 ho tentato di utilizzare fino a che ci sono riuscita questo poco di prodotto ed è quello lì per la prevenzione anti smog mi è rimasto da finire il siero che trovo davvero molto buono perché una volta lavati i capelli ve applicando questo siero da bagnato ve li ammorbidisce che è qualcosa di fantastico no, i prodotti della Hermed sono davvero buonissimi non perché insomma me li hanno inviati per provare ma sui miei capelli hanno fatto davvero effetti miracolosi in particolare anche il siero che ho utilizzato pure con i capelli trattati mi ha fatto dei capelli morbidi morbidi davvero buono sempre per l'anti smog e l'anti crespo se non erro quindi ho finito lo shampoo poi ho finito un sacco di campioncini di profumo della Yves Rocher in particolare ho finito 1, 2, 3, 4 4 confezioni di questo profumo qua della Yves Rocher che è il Moment de Bonheur che praticamente è quasi il duppo del Chloé quindi io l'utilizzavo tantissimo perché mi ricordava molto il profumo Chloé dato che non ce l'avevo all'epoca utilizzavo questi campioncini qui che la mia amica Cristina mi ha dato è davvero il duppo del Chloé quindi se non vi potete insomma prendere il Chloé perché mi rendo conto che costa abbastanza infatti io me lo sono fatto regalare da papà vi consiglio questo qui della Yves Rocher che è molto più economico costa intorno ai 30 euro però il profumo è molto molto simile poi sempre per quanto riguarda i campioncini di profumo ho terminato altri tre campioncini di profumo e sono questo qui che è il Tendro Jasmine che è un profumo tipo sui conifiori niente insomma di di particolare mi ricorda un profumo che non se non teneva mia madre tempo fa Ambridge Amarige Ambitridge una roba del genere comunque Amarige un profumo insomma quel profumo lì per chi lo conosce e magari mi scrive il nome esatto sotto al video perché non non mi ricordo il nome preciso e due confezioni di Evidence due campioncini di Evidence questo qua è l'Eudatalet e questo qui è l'Eudat Parfum ho finito un sacco di campioncini di profumo devo dire la verità ah ho finito un'altra confezione delle salmettine struccanti della Fria quando lo stavo in offerta a 75 centesimi ne avrò comprate tipo 3-4 confezioni poi ho finito questo qui questo bronze fixer e prolonger della Bilboa ce n'era uno sputo proprio e me lo sono messo tipo come crema idratante per terminarlo che ce l'ho da un sacco e mi piace soprattutto l'odore di questo di questo prodotto però ho notato anche quest'estate che non lo fanno più e niente mi ci sono trovata bene aveva un odore buonissimo mi dispiace solo che la Bilboa non l'ha riproposto poi ho finito una crema idratante nutriente vellutante sempre un campioncino della linea dolcezza dell'Elan sempre come crema idratante io a beveroni ne uso per il corpo perché comunque ho la pelle molto secca come struccante ho finito questo qui della Glenova che vi straconsiglio perché ha un costo irrisorio di un euro ma è davvero molto molto buono non brucia gli occhi e strucca bene il trucco l'unica cosa vi ripeto che non strucca è il prodotto per sopracce di Palopi ma quello non lo strucca niente dovete stare lì a scartavetrarvi le sopracciglia per toglierlo perché è davvero super super resistente e niente ragazzi vi mando un bacione e questi diciamo sono i prodotti che ho finito in quest'ultimo periodo ho voluto fare questo video perché così vi faccio i prodotti che finisco in quest'anno perché questi sono quelli là dell'anno scorso del 2013 e ancora dovevo fare questo video il bagno si è fatto una sosa pieno di carti e cartuscelle quindi ho deciso di girare il video e tagliare la testa al toro anche perché sennò mamma sicuramente un giorno di questi piava e mi buttava tutto e addio e niente io vi mando un forte bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video ciao ragazze ciao